Ciao bambini, buongiorno, come state? Spero bene. Oggi volevo presentarvi un lavoretto semplice semplice da fare insieme per la festa della mamma. Voi sapete che è la seconda domenica di maggio, quindi domenica prossima festeggeremo tutti la mamma insieme. E per questa occasione vi ho preparato un lavoretto da fare con una poesia semplice semplice che ve la recito. È molto significativa questa poesia, fa così. Si intitola Mamma Nastrino. Tutte le mamme del mondo hanno i nastrini, tanti nastrini lunghi e colorati, che legano il loro cuore a quello dei loro bambini. Nastrini invisibili, di stoffa molto elastica, che possono allungarsi, 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 o accorciarsi, accorciarsi, accorciarsi. Il tamburo batte, tum tum, pronto pronto, l'altro bambino risponde, tum tum, tum, eccomi, un po' di pazienza. Mamma e bambino si parlano, da cuore a cuore, in una lingua misteriosa che solo loro capiscono. I nastrini legano mamma e bambino, con il loro alfabeto segreto. Questa qui l'abbiamo realizzata io e Adriano, mio figlio, vedete, ha fatto un semplice disegno di lui, un semplice disegno della mamma. Poi abbiamo preso un nastrino che avevamo in casa, di colore rosso, qualsiasi nastrino abbiate voi a casa, e ha collegato il suo cuoricino al cuoricino mio, della mamma. Molto carino, vero? È semplice, voi siete bravissime a fare dei disegno, quindi potete realizzarlo benissimo da soli, va bene? E con l'aiuto di mamma vi fate incollare il nastrino che vi legherà per sempre. Ora vi voglio presentare un altro lavoro, questo è un semplice tovagliolino di carta, uno scottex che tutti abbiamo in cucina, e io con questo andrò a realizzare il vestito della nostra mamma. Usiamo sempre i materiali che abbiamo in casa, così ricicliamo, perché voi sapete che riciclare è meglio che buttare, quindi mi raccomando, eh, non buttiamo mai via nulla, che tutto può riavere una vita, un utilizzo. Con questo semplice tovagliolino, adesso io lo vado a decorare con i miei colori, con i miei pennarelli semplicissimi che avete tutti a casa, e ci faccio i cuori. Poi vado a fare i puntini, delle linee, poi ci vado a fare i cerchietti, con i cerchietti, poi ci vado a fare altri cuori. Ecco fatto, ecco, io l'ho decorato così, voi potete decorarlo come più preferite. E adesso cosa faccio? Prendo un pezzettino di una mamma e lo leggo. Prendo un nastrino, lo taglio, e leggo. Ecco fatto. Il foglio, così. Faccio prima un po' di figlie, proprio come un vestito. E ci faccio un bel fiocco. Ecco, ho fatto, vedrà il più meno possibile. Ok. Li possiamo anche tagliare un pochino, sempre di una volta di me. Ok, ecco fatto. Adesso prendo un semplicissimo foglio bianco. Potete usare una scatola, dei merendini, quello che preferite. Io ho preso un foglio bianco e disegno il faccino della mamma. Faccio un bel faccino rosa, gli occhi, la bocca. Ci faccio i capelli biondi. E poi, insieme alla vostra mamma, su questo faccino che ho disegnato, incollate il vestito. Vedete com'è carino? Abbiamo creato il vestito della vostra mamma. Però ci mancano ancora le mani e i piedi. Allora, ci vado a fare delle manine. Ci possiamo fare dei cuoricini, dei palloncini a cuoricini. Possiamo fare un sole. E decorate il vostro disegno come vi piace. Vedete quanto è carino? Semplice, semplice. Con un foglio, uno scottex facilissimo da trovare in casa, che utilizziamo a tavola. Allora, mi raccomando, impariamo bene la poesia che vi ho raccontato prima. L'impariamo e prepariamo un lavoro per mamma. Quello lì del disegno con il nastino, oppure anche un bel disegno così. Realizzate un bellissimo vestito per la vostra mamma. Bello, bello, bello come lei. Ti raccomando, usando sempre i materiali che abbiamo in casa. E mi raccomando, la scuola non si ferma mai. I training non si fermano. Un bacio a tutti. Ciao bimbi, buona festa della mamma.